A Cannes non è presente la Film Commission Campania e il direttore lamenta una mancanza di sostentamenti. Cosa si può fare? Si provvederà? Stiamo riprendendo in mano tutti i comparti della programmazione culturale della nostra regione. Ovviamente in alcuni settori abbiamo qualche ritardo, qualche battuta a vuoto, ma credo che recupereremo rapidamente. Saremo in condizione di proporre nel campo dello spettacolo, nel campo del teatro, del cinema, della musica, i livelli di assoluta eccellenza di cui la campania può essere testimone.